da casa? dammi che c'hai? Antonio finisce tutto e finiscono anche le cose belle e puff puff Antonio voi due siete sempre stati un punto di riferimento per me è da una vita che vivo sempre solo con una persona Ah, perché mo' ci stanno pure divorzi gay. Che ci vuole derubare ancora, mercoledì di Champions? Ne ho trovato una casa, Cri. Speriamoci. Tra paura io ho un tizio a vedere la casa. Immagino ci sia la fila. Ah, ma tu sei il tizio della stanza. Antonio è bravissimo in cucina. A te ti serve un apprendista, a lui serve un lavoro. E io cerco qualcuno che mi paghi l'affitto. Quando uno ci provo, Conte, mi sento a disagio. Non ci sono abituato. Il figlio mio ha trent'anni, non settanta. Allora, a parte quasi trenta. Anche basta con il lutto. Io cerco una storia seria. Cioè, personalmente a me non mi danno nulla. Next. Thomas? Antonio. Poi cresci e ti fa le tue, direi. Prima di cercare l'amore. Devi trovare te stesso. Tanta. Ciao. Tanta.